Un saluto agli amici della squadra di San Marino, volgiamo uno sguardo qui a due passi da noi, poco oltre l'Adriatico, perché è giunto il momento di presentare la squadra della Serbia. Serbia! Grazie a tutti! Un applauso di Ostellato anche per la formazione della Serbia e cede il passo alla squadra della Slovacchia! Slovacchia! Grazie a tutti! Grazie a tutti!